Rieccoci nell'ultima parte di Primus Interpares con il sindaco di Villanova in Camposampiero il consigliere provinciale con la delega alla cultura Cristian Bottaro ovviamente abbiamo già parlato nella prima parte del suo paese adesso invece dobbiamo parlare come consigliere provinciale delegato alla cultura come è questa delega che poi tra l'altro è una bella delega tanto desiderata, diciamo che l'esperienza da sindaco mi ha fatto sempre innamorare di questa materia di argomenti che riguardavano l'arte e la cultura la cultura mi ha sempre interessato, sull'arte ero un po' più distaccato e da sindaco devo dire me ne sono innamorato perché a Villanova abbiamo tantissime cose nel valorizzare ovviamente delle opere credo sia una delle cose più importanti sotto questo punto di vista e quindi quando sono diventato consigliere era la delega che più mi attraeva con ramarico dico se i comuni sono messi male le province sono proprio con le ruote bucate il freno a mano tirato senza benzina e senza olio e quindi l'arte va a farsi friggere? purtroppo diciamo per quanto riguarda la provincia fatto salvo Rete 20 che è un'iniziativa straordinaria veramente stupenda che coinvolge praticamente tutto il territorio della provincia di Padova e che quindi collega la bassa, l'alta, i colli, il conselvano e così via fatto salvo a questa iniziativa si fa davvero difficile si fa davvero difficoltare anche perché di arte nella nostra città e provincia ce n'è proprio per questo sono stato molto onorato di quando prima il presidente Buia dopo il presidente Giordani diciamo mi hanno dato mi hanno confermato questa delega beh a Padova indubbiamente Urpitta ha valorizzato ancora di più la città oltre che sotto l'aspetto culturale anche sotto l'aspetto del turismo perché ha permesso di ritrovare quasi 2 milioni di visitatori all'anno che prima non c'erano vuoi per il Covid vuoi perché ovviamente rappresentando 7 siti ovviamente sono diventati patrimonio dell'UNESCO hanno facilitato questa opera e nella provincia invece com'è la situazione sotto l'aspetto dell'arte? beh come l'ha detto lei disponiamo di grandissimi valori di grandissime opere che però diciamo dovremmo valorizzare un po' di più ma non abbiamo né le deleghe giuridiche che ci consentono di operare perché con la riforma delle province che c'è stata nel 2014-15 se non sbaglio la famosa legge del Rio che ha limitato diciamo i poteri delle province e abbinato a questa problematica anche ci aggiungiamo la carenza di disponibilità finanziarie e allora cosa fa il delegato? beh allora rete vende mi racconti cosa fa lei perché se non ci sono soldi abbiamo sì delle opere d'arti da valorizzare tant'altro però siamo la canna del gas come si dice da noi e allora? innanzitutto disponiamo di una ricchezza che in altri territori manca che è il volontariato però non si può puntare sempre sul volontariato e beh senza di quello salterebbe l'Italia soprattutto nelle nostre parti soprattutto anche qua in Veneto diciamo che il Veneto è così ricco perché ci sono persone che oltre a donare il proprio denaro perché sono di mecenati o semplicemente perché hanno a cuore la società le interrompo lì non sono d'accordo con lei uno che guadagna e non è sul territorio ha un dovere morale di dare qualcosa a quel territorio sotto l'aspetto sportivo e anche sotto l'aspetto culturale semplificando se io ho un supermercato e guadagno 10 milioni all'anno sto dicendo dei numeri a caso e mi sembra che sia doveroso che io dedichi una parte del mio utile alla cultura e allo sport e a quello che è la necessità del mio territorio perché è tramite quello che mi sono arricchito delle volte questo gli imprenditori dovrebbero metterselo anche sotto un certo punto di vista come quasi obbligo mi scusi se le dico questo sono parzialmente d'accordo con lei nel senso che anche nel mio comune molte iniziative come le dicevo prima vengono svolte grazie a contributi economici a finanziamenti privati però è una sensibilità che deve avere una persona e grazie a Dio moltissimi imprenditori nel nostro territorio hanno questa sensibilità qua però le dico non voglio fare una diattiva con lei perché non è la sensibilità è un dovere però su questa cosa qua le voglio porre un elemento di riflessione cioè essere ricchi fare soldi in modo naturalmente lecito legale e tutto quanto non è una cosa semplice e in una realtà come la nostra quando ti vedi bastonato dalle tasse bastonato dalla burocrazia bastonato da tutta una serie di cose che ripeto anche quando li hai guadagnati onestamente vieni additato tartassato dici tartassato e dal pensiero comune anche se è automaticamente un ladro e di conseguenza uno dice vabbè allora ma chi se ne frega ma chi se ne frega invece grazie a Dio nonostante diciamo queste queste brutte cose l'imprenditoria aiuta moltissimo la cultura il sociale lo sport nel concetto siamo vicini tutti e due sono d'accordo nel suo ragionamento per questo secondo me è più che un dovere morale è una sensibilità però con questo governo sembrerebbe che le cose migliorassero dicono tutti così io lo spero dicono tutti così poi il tempo anche lì sarà galantuomo nel verificare se a me ne migliorano o no ma dicevo ci sono patrimoni in provincia Padova dove hanno più necessità dove lei oggi visto che è ovviamente segue la parte culturale della provincia ha necessità a tutti i costi qualche manufatto importante qualche opera importante beh allora della provincia penso ad Abano ci sia la necessità di intervenire su un fabbricato che funge anche da punto informativo turistico e una bella un bel finanziamento verso i nostri musei per esempio e qual è ad Abano quella che dovrebbe essere migliorato? il punto informativo turistico ah perché non diciamo che da un punto di vista edilizio merita un qualche tipo di intervento da questo punto di vista pensavo al teatro di Abano non pensavo questa cosa qua diciamo l'ho fatto che è un'opera stratosferica che c'entrava l'orologio che non è però del comune è di proprietà dei medici e quindi lì dove scusare a Montegrotto non Abano stavo pensando a Abano non mi risulta esatto stavo pensando a Abano non volevo siccome diciamo sono due comuni che oltre ad essere molto vicini ma più che altro hanno una vocazione praticamente identica certo abbiamo dei bellissimi hai mai stato al museo della storia della medicina al musme di Padova? noi abbiamo fatto delle dirette ha visto quanto ma sì ma però a Padova quello non è proprio un provinciale però al museo della provincia siamo stati certo alla provincia siamo stati lì abbiamo fatto una diretta dal musme con appunto anche le macchine che ci segnavano come fare operare nel switch come si pronuncia che non sono bravo in inglese poi siamo stati anche a Esapolis che fa parte della provincia abbiamo fatto le dirette dappertutto noi con il primo settembre abbiamo fatto sia al musme sia a Esapolis vi faccio i complimenti abbiamo visto i ragni abbiamo visto di tutto vanno assolutamente valorizzate e credo che le scuole debbano ricominciare a prevedere uscite più numerose verso i nostri sono d'accordo io ho visitato Esapolis che ci passavo sempre tutti i giorni sono andato a visitarlo ed è sotto chi ha paura dei ragni o di quella roba lì è meglio evitare però a me che non li prende perché sono all'interno ovviamente delle vetrate dove non si può però è molto affascinante sotto questo sotto questo punto di vista adesso le faccio vedere anche le locandine degli spettacoli in programma come Rente 20 Cultura Veneto che vi ricordo è un progetto regionale arrivato alla sua undicesima edizione se la regia mi può mettere le grafiche iniziando con favole ed arte con tutto il programmino ovviamente basta andare sul sito della provincia degli eventi potranno verificare dove dal 25 settembre fino al 27 novembre vedete tutte le varie manifestazioni che si svolgono ricordo a gran torto il 27 novembre ci sarà dinosauri sulla luna poi la domenica la bella fior d'aliso la strega ti rovina insomma tante belle cose andate nel sito vedete le vediamo lì poi invece abbiamo del teatro dei filo drammatici vediamo nella pagina dopo eccolo qui di E.S. ci sono ovviamente tutti gli appuntamenti da domenica 30 ottobre fino addirittura al 5 marzo con ovviamente attori importanti con registi importanti per poter appunto valorizzare ancora di più gli eventi che organizza la provincia andiamo anche in quella dopo dove abbiamo una notte di viaggio di una rassegna musicale con nei vari paesi vedete Fontaniva se riusciamo a alzare Bravo Marco a Villa Franca a Carmignano a San Pietro in Gu Tombolo Piazzola a Gazzo a San Giorgio in Bosco praticamente quasi tutta la provincia di Pado un grande ringraziamento lo dobbiamo fare anche alla fondazione Cassa di Risparmio di Pado perché ogni anno concede un bel contributo per l'iniziativa certo poi vediamo anche i concerti d'autunno dall'auditorio dell'assunta ovviamente dalla domenica 16 ottobre domenica 23 venerdì 4 novembre la grande guerra alla chiesa parrocchiale di Rubano poi prospettive musicali quindi il 13 novembre quindi vedete davvero molti impegni della provincia dovrei avere l'ultima poi è l'ultima sì che è il teatro in arte che praticamente andrà a Carmignano di Brenta con Sandra Raimondo poi toccherà Villa Franca Padovana San Pietro in Grussa Giorgio in Bosco Tombolo Gran Torto Gazzo Campodoro Piazzola sul Brenta Campo San Martino quindi vedete molti eventi che la provincia organizza per valorizzare l'arte nella nostra città e nella nostra provincia ovviamente quindi qui abbiamo ovviamente il delegato alla cultura il sindaco di Villanova che ovviamente può essere fiero di questa organizzazione di eventi assolutamente ma è anche difficile sotto il piano organizzativo coordinare tutto questo ambaradama che lei ha correttamente esposto e i nostri concittadini gli invito davvero a partecipare perché stare dentro queste nostre quattro mura penso abbia stancato un po' tutti quanti ma le dicevo anche da un punto di vista amministrativo noi abbiamo una persona dedicata a fare questo tipo di lavoro e tanti altri all'interno della provincia anzi voglio ringraziare Patrizia Capovilla che è proprio materialmente la persona che si dedica a seguire i comuni a coordinarli a raccogliere le integrazioni insomma fa davvero un lavoro molto molto importante e deve svolgere anche attività di segreteria deve seguire per esempio i consigli provinciali noi molto spesso parliamo male del dipendente pubblico nelle realtà come la nostra ci sono assolutamente ma ci sono i dipendenti bravi esatto nelle realtà come le nostre ci sono veramente delle persone che forse meritano davvero qualcosa in più sia da un punto di vista di prestigio che dico anche da un punto di vista economico assolutamente sono d'accordo con lei poi tra l'altro però una provincia che organizza tutti gli eventi che organizza la provincia di Palo ne trovi poche in giro perché cercano tutti di concentrare nella città principale man mano tralasciare un po' la provincia invece mi sembra che in questo caso Reteventi organizza davvero degli eventi interessanti poi dagli stessi cittadini perché fra l'altro sono attori o artisti di famosi sono artisti che vivono il territorio che ci lavorano e che ovviamente dedicano il loro tempo libero come diceva lei prima a iniziare queste attività e a svolgere poi eventi che fanno passare un'ora bella ai cittadini della provincia di Palo noi abbiamo la speranza anche che magari qualcuno sfondi sul campo dello spettacolo con questo tipo di esperienze diciamo che sia un buon trampolino di lancio per magari pensare di poter vivere di arte piuttosto che di musica e di questi aspetti perché pensi vivere una giornata di numeri economici di fatiche fisiche se non abbiamo grazie a tutti 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 grazie a tutti